Chi di voi conosce il vino più raro d'Italia? Andiamo subito a scoprirlo. Uno splendido vino bianco frizzantino prodotto ad Ischia. Il suo nome è Calogne, ma si scrive di staccato Cal-Ogne. Come potete vedere la distesa di questi vigneti è davvero immensa. Ragazzi, siamo arrivati. Buongiorno signora Patrizia. Buongiorno amici e amiche, grazie per essermi finito a trovare la mamma mia. Oggi sta facendo una bella venella al formaggino, schiacciato con i vecchi metodi antichi. Sì, ovviamente qualche pelucchio si può scappare, però vuol dire che è una meraviglia, mamma mia! Ma Patrizia, ci puoi spiegare qual è il segreto che lo rende così raro? E il segreto sta nella spremitura a capocchia, con ogni longhe e galli duri. Perché l'ognia taglia e il callo schiaccia, mamma mia! Ragazzi, me lo volevo far assaggiare, ma mi stava venendo da sboccare. Un saluto da Linea Verde. Ciao ragazzi!